Sì Ah ecco Aldo Ciao Allora che se la forza la metti Ti fai la corsa Allora Dai, dai! Guarda, almeno fanno... Bravo, bravo! Bravo, bravo! Dai, dai! Vai, dai! Vai, dai! Ecco, sì, però... Non è fatto molto bene questo... ...lo posso... Eh, sì, sì, dai, dai! Anche le salsicce, dai! Questo per mettere qua! Eh, anche le salsicce, via! Tanto che ci siamo... Bene! E li mettiamo dentro la camicia... ...che scongelo, no? ...basta che ce lo sei in cartina... ...dopo poi... Vai! Ci siamo! Perché noi ora siamo arrivati, Romano! Ok, camminci, eh! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, 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 dai! ...eh! Va bene, allora dica di perché no, su. Perché no. Quando devono farla sono morti. Siamo i gemelli Serangeli!